Oggi è il 9 maggio, come abbiamo sentito tutti, oggi è giornata di grandi ricordi, si ricorda la morte di Impastato, la morte di Aldo Moro, del ritrovamento in via Caetani, ma il 9 maggio è anche la festa dell'Europa e in questi anni tra la pandemia e tra la guerra alle porte, Dio solo sa quanto c'è tanto bisogno di Europa, quanto siamo fortunati ad avere una protezione, un ombrello europeo dove sentirci protetti. Forse perché sono, come si dice, giovane, forse perché non ho un passato politico che risale agli anni dove c'era la contrapposizione destra e sinistra, ma io credo che adesso la vera contrapposizione sia tra partiti europeisti che abbiano ben a cuore qual è il futuro del nostro paese contro partiti sovranisti. E come mi ha insegnato Michele Usuelli, che ci onora della sua presenza nella nostra lista, cosa vuol dire sovranismo? Vuol dire prima gli italiani, ma se siamo in Lombardia non è più prima gli italiani, ma prima i lombardi e quando arriviamo a Sesto ci sentiamo che ci dicono prima i sestesi. Ma Michele, Sesto ha tanti quartieri? E quale privilegiamo? Facciamo prima Cascinagatti, visto che ci sono anche dei rappresentanti di Cascinagatti? E poi Cascinagatti ha le vie e alla fine si finisce, come dice Michele, a guardare al proprio condominio, ma poi il vicino di casa mi sta sulle palle e alla fine dico prima io. E alla fine il sovranismo è questo, è un concetto molto egoistico di concepire la comunità, dove non c'è più solamente quella normale propulsione a guardare i propri interessi, ma c'è sostanzialmente un disinteresse verso quello che può servire per la società, per contribuire alla società. Cascinagatti, questa è più o meno un po' l'idea di fondo di questo progetto politico, tre forze che si nutrono degli stessi valori, che si vogliono mettere a disposizione a Sesto San Giovanni per fare qualcosa di diverso, qualcosa di più innovativo. Una delle domande che mi fanno spesso quando andiamo in strada a volantinare, a conoscere le persone, mi chiedono ma tu di che anno sei? Io dico dell'88 e mi dicono quindi tu vuoi fare il sindaco di Sesto a 34 anni? E io mi trovo un po' nel disagio di dover dire che facendo gli anni a settembre in realtà la data delle elezioni ne avrò soltanto 33. Sì, io sono qui, io do la mia disponibilità, potrei dirvi che per il lavoro che faccio in realtà ho anche esperienza ormai da diversi anni di come si lavora con le pubbliche amministrazioni, potrei dirvi che io non sono da solo ma ho una squadra di persone che si candidano con me e anzi invito i miei candidati a alzare la mano e a farsi vedere chi sono, fatevi vedere così la gente vi riconosce, guardateli bene in faccia, sono persone che si avvicinano molto spesso la prima volta alla politica con una genuina voglia di fare il bene per la loro città. potrei dirvi questo ma in realtà vorrei dirvi un'altra cosa e cioè che forse solo in Italia c'è il concetto che la politica è una cosa che devono fare, che devi fare solamente se hai una lunghissima esperienza di partito, solo se sei stato un grande dirigente, solo se hai mangiato la politica. Io vorrei ricordare alcuni esempi che secondo me sono molto significativi, ad esempio in Finlandia, tutti noi sappiamo cosa sta vivendo la Finlandia in questo periodo, c'è un premier che ha 34 anni, una giovane donna, Macron è diventato presidente della Repubblica Francese a 39 anni, gli si sono stati dati i codici delle armi nucleari francesi a quell'età, anche Renzi per dire a 39 anni è diventato presidente del Consiglio dei Ministri, certo non ci sono solamente giovani capaci, abbiamo visto i vari di Maio, abbiamo visto in Austria il cancelliere tedesco ultraconservatore, quindi l'età di per sé non è un valore, ma l'età di per sé non deve essere un ostacolo. In realtà il tema dei giovani in politica e come la visione, le responsabilità che ai giovani viene data in politica è solo la punta dell'iceberg, se voi pensate ad alcune statistiche agli anni in cui i giovani escono di casa, in Italia escono di casa 30 anni, contro una media europea di 26 anni, contro una media dei paesi nordici di 22 anni, questo comporta come potete immaginare delle conseguenze sul piano demografico, sul piano dell'occupazione, sugli anni in cui le famiglie si formano, fanno figli e quali sono le ragioni? Ce ne sono tantissime, possono essere i percorsi educativi poco performanti, degli sbocchi professionali carenti, c'è però un tema che è molto presente in questa città e nell'area milanese che è il tema della casa. A Sesto San Giovanni, così come a Milano e nei comuni limitrofi, le case sono aumentate molto di costo, secondo una statistica che abbiamo trovato negli ultimi 4 anni il prezzo di media delle case è aumentato del 25% per l'acquisto e del 10% per l'affitto e nonostante questo non c'è stato un pare aumento dei redditi nello stesso periodo. Questo è un tema di cui non si parla, però è un tema che tutti sentono ed è un tema su cui noi, e devo dire unico partito a Sesto San Giovanni abbiamo posto l'accento quando a settembre c'è stato da approvare il piano regolatore del comune di Sesto, abbiamo lanciato l'allarme, abbiamo chiesto di fare di più, purtroppo non è stato fatto e questa sarà quindi una delle prime cose che faremo se i cittadini ci daranno fiducia e appunto ci leggeranno come sindaco e come assessori e consiglieri di questa città. Il tema dei giovani è molto ampio, c'è il tema della mancanza dei posti di socializzazione, noi abbiamo fatto una proposta per rilanciare la biblioteca centrale, una proposta che va nel rendere la nostra biblioteca moderna, un punto di riferimento per i ragazzi che molto spesso vanno in altre città perché a Sesto mancano le strutture e abbiamo fatto anche una proposta di rivedere gli spazi interni perché è un luogo molto bello e magari togliamo un po' di uffici pubblici e apriamolo la città in questa biblioteca. Noi ci vogliamo confrontare su queste proposte, ci vogliamo confrontare su delle idee concrete, non ci interessano le polemiche, le polemiche le lasciamo agli altri e negli ultimi dieci giorni di polemiche secondo me ne sono state fatte anche fin troppe a partire dal famoso episodio dello scarafaggio nel panino alla mensa. Ora questa è una cosa intollerabile che non deve mai succedere e se io fossi stato il sindaco anche io sarei andato nelle mense a fare un pranzo a soppresa, ma non a un mese dalle elezioni, magari l'avrei fatto anche già negli ultimi due anni visto che è una cosa che va avanti da tempo. Se io fossi il sindaco però non mi limiterei a fare delle azioni come sono state annunciate di fare delle ispezioni, di applicare delle penali, questa è attività ordinaria. La mensa infatti non è soltanto un luogo dove si mangia, la mensa è anche un luogo dove si fa educazione, educazione a stare tutti assieme rispetto a tavola, educazione a non sprecare il cibo, educazione a una corretta e sana alimentazione e ogni volta che succedono questi episodi sostanzialmente si sta facendo un danno a un pezzo fondamentale del sistema scolastico. Ed è per questo che secondo me proprio una delle azioni che dovrà essere fatta proprio per ridare fiducia alle mense scolastiche cittadine è quella di iniziare dei percorsi con degli nutrizionisti pagati dalla società che gestisce le mense visto che appunto il danno proviene da lì e poi anche mandare i ragazzi a conoscere nei luoghi dove i cibi vengono fatti per imparare appunto il rispetto alla vita sana. E se ci sono degli avanzi si fanno le schiscette e si porta a casa quello che è avanzato perché così il genitore verifica cosa i figli mangiano a mensa e non ci sono delle polemiche pretestuose ma i ragazzi vengono al tempo stesso anche abituati a combattere lo spreco alimentare. Un'altra polemica che si è molto sentita parlare è la polemica della salamella. Io credo che ognuno ha il diritto di fare politica come vuole, se uno ritiene che fare politica con la salamella è una buona politica che la faccia, magari se poi ci riesce, gli si può anche subappaltare la festa dell'unità. E l'altra polemica che secondo me è vergognosa che è stata fatta sono quelle sui post di anni e anni fa di Michele Fuggetta. Post che io sinceramente non avrei mai scritto, post che io non condivido nel merito ma sono stati presi, sono stati buttati nei social per fare il solito tritacarne di odio. E allora io dico una cosa, se basta un post di anni fa per essere paragonati a degli amici, a dei fiancheggiatori dei terroristi, cosa dire di un sindaco che da anni ospita nella sua giunta un assessore che è forse tra i più grandi filo-putiniani d'Italia. Un assessore che ha dichiarato che la guerra in Ucraina è come un divorzio e cioè che è come quando una coppia si separa, la colpa è di entrambe le parti, ma mi sembra normale e a fronte di una giunta composta da questo modo cos'è che abbiamo? Abbiamo il grattacielo del comune che è stato colorato di blu e di giallo con i colori della bandiera dell'Ucraina. Questa secondo me non è politica, questa è ipocrisia, ma anche della peggior specie. Altro tema che ha prima toccato Gianni, quello dei soldi in campagna elettorale. La città è stata tappezzata, anche qui i soldi ognuno decide come usarli. Forse c'è stato un utilizzo smodato dei soldi, soprattutto in un periodo, in un contesto economico di questo genere, si può anche evitare. Noi però sulla questione dei soldi in campagna elettorale non vogliamo lanciare la solita protesta, loro spendono troppo, loro hanno i soldi. Lo dico anche agli amici dei 5 Stelle che si sono molto a lungo battuti contro il finanziamento ai partiti pubblici. Il finanziamento ai partiti pubblici che si è fatto correttamente ha proprio lo scopo di evitare che chi ha i soldi può fare politica e può sostanzialmente schiacciare quelli che vogliono fare politica in maniera democratica ma non hanno le risorse. Noi abbiamo deciso di trattare la questione dei finanziamenti con un nuovo approccio in maniera trasparente, siamo gli unici a sesto in questa competizione che ci appoggiamo all'unica piattaforma di raccolta fondi totalmente trasparente che permette di verificare quanti soldi stiamo raccogliendo, è l'unica piattaforma pensata per le competizioni elettorali. Questa non è una cosa obbligatoria, non è che chi non lo fa allora ha qualcosa da nascondere, siamo certi che tutti faranno la raccolta dei fondi nel rispetto della legge, però è un nostro modo di porci, cioè quello di essere più trasparenti di quello che è richiesto dalla legge. Di trasparenza ce n'è tanto bisogno in questo comune, ad esempio pensiamo al fatto che non sappiamo quali sono i portatori di interesse che hanno rapporti con l'amministrazione pubblica, lì basterebbe mettere un registro come si fa nelle migliori esperienze della democrazia di modo che si sappia chi va a parlare, cosa chiede e cosa si fa. Questo appunto è il nostro modo di concepire la politica ed è un modo di concepire la politica che parla dei temi anche quelli più scottanti come può essere quello delle strisce blu, noi potremmo fare dell'opposizione populistica, potremmo promettervi quello che non si può promettere, cioè che le cancelliamo, in realtà nel nostro programma abbiamo previsto un metodo delle idee per migliorarla, però visto che noi siamo liberali e ci crediamo, tant'è che ce lo mettiamo anche in questa spilla che abbiamo sul cuore, noi vogliamo lanciare una domanda, e cioè questi soldi che fine fanno tutti questi soldi che vengono racimolati per parcheggiare le auto, come il comune pensa di utilizzarla? Io credo che un amministratore pubblico quando decide di chiedere una nuova tassa ai cittadini abbia come prima cosa il dovere di trasparenza e dire come voglio utilizzare questi soldi. Diciamo che questa è una città che ha molte cose da fare, dalla mobilità, noi abbiamo pensato a un sistema di mobilità, pensato alle persone più fragili, alla questione sanitaria, noi siamo la città che si candida a ospitare così tanti ospedali ma non ha i medici di base, anche lì noi abbiamo pensato a un modo per cercare di mettere una pezza, una toppa, non è definitiva, non risolverà tutti i problemi ma è già un inizio e anche la questione del bilancio non se ne parla, con tutte le grandi trasformazioni industriali Sesto sarà coperta di denari dalle trasformazioni urbanistiche e non si dice come questi soldi verranno utilizzati. Noi non vogliamo che si trasformi questa occasione che è il nostro PNRR nell'ennesima occasione per buttare soldi in manutenzioni, in cattedrale del deserto, noi vogliamo una discussione per decidere come utilizzare questi soldi con progetti di lungo respiro e che abbiano un impatto almeno di una generazione. E poi c'è tutta anche una questione di cultura, di eventi, tutti i temi che in questa città sono morti in questi anni. Questa è anche una città che avrà tanti problemi però ha anche bisogno di tornare anche un po' a sorridere. Com'è che si può fare? Magari ripristinando una tradizione di questa città che era la marcia del primo maggio, che era molto amata. Oppure ridando centralità alla festa del Santo Patrono che quest'anno si è deciso che non verrà fatta la fiera perché a quanto pare c'era negli anni scorsi uno scarso interesse della cittadinanza, forse c'era scarso interesse perché la qualità dell'organizzazione era molto scesa. Noi ad esempio vorremmo lanciare questa proposta in campagna elettorale con il supporto di tutti i cittadini, i commercianti che ci vogliono aiutare per ridare vitalità a questa festa. Ed è quella ad esempio di coinvolgere la comunità spagnola che festeggia lo stesso Santo, la comunità spagnola che è presente in città, a Milano e in provincia e far diventare sesto la città dell'accoglienza di questo mondo in modo che assieme ci si possa festeggiare, si possa dare nuovo slancio, nuovo brio alla festa. Non mi voglio dilungare oltre sul programma anche perché ci saranno altre occasioni per discuterne ma anche perché se no facciamo tarli. Vorrei lanciare due messaggi politici molto chiari. A breve si incominceranno gli appelli al voto utile. Il voto utile non è quello che supera il primo turno ma il voto del candidato, della squadra che ha più chance di vincere il secondo e andare a governare. Ed è evidente che noi siamo gli unici che non siamo legati a delle ideologie, non siamo legati a degli concetti estremistici. Noi siamo gente che ha dei programmi, ha delle idee, ha delle proposte che vuole portare per la città. Quindi al secondo turno siamo quelli che davvero possiamo gli unici che possono cambiare le cose in questa città e dare nuova linfa a sesto San Giovanni. è evidente che siamo in campagna elettorale e quindi non possiamo altro che chiedervi il vostro voto. Ma io vi voglio chiedere anche un'altra cosa oltre al voto che è il dubbio. Il dubbio a tornare a casa, riflettere di quello che ci siamo detti, leggere il nostro volantino, leggere il nostro programma, ripensare alle nostre idee e poi ridiscutere, ritrovarci, rivederci, dire che cosa si può fare per migliorare, dirci cosa stiamo sbagliando e cosa possiamo migliorare. Noi non crediamo nella politica fatta di slogan, non crediamo nella politica fatta con i cappellini, i fischietti e le magliette, non vogliamo tifosi di calcio, vogliamo cittadini consapevoli su come utilizzare il nostro voto. Abbiamo uno slogan che è nascosto dalla bandiera che è più valore per sesto, non è un modo di dire, è una cosa a cui ci crediamo, noi vogliamo portare dei valori, vogliamo difenderli, li vogliamo condividere con voi e quindi con il vostro supporto ce la possiamo fare. Grazie.